Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non accenna a diminuire il numero di decessi di pazienti che avevano il Covid-19, tre dei quali in provincia di Pescara e uno in provincia dell'Aquila, di età compresa tra 71 e 94 anni, con il numero delle vittime che sale drammaticamente a quota 3.149 in regione da inizio pandemia. Inoltre sono ancora sopra quota 2.000 i contagi in Abruzzo, dove in particolare sono 2.032 di età compresa tra due mesi e 102 anni. Dei positivi di oggi 1.597 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, in compenso anche altri 1.465 guariti in regione, mentre gli attualmente positivi sono 45.589. In calo invece i pazienti ricoverati in ospedale e in area medica, 310 complessivi e meno 3 rispetto a ieri. In aumento invece quelli in terapia intensiva 14 contro i 13 di ieri, mentre gli altri 45.265 più 564 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti infine 3.181 tamponi molecolari e 10.715 test antigenici, con il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno sempre alto e pari al 14,62%. Dei positivi di oggi 299 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 696 in provincia di Chieti, 492 in provincia di Pescara e 449 in provincia di Teramo.